Non ci voleva, ci sono i luoghi dell'anno, questo vestito che va sotto aperto è proprio un nuovo paese del portale di Tupato, ma questo è un'utente, per esempio di questa situazione. Ecco qua, la c'era il parchetto, è chiaro che può poi a… Non lo so. È bello a vivere a questa età, è bello quando c'è alza la mattina, fa le sue cose, fa parlare senza sbagliare, allora è bella. La regione Curia ha speso tutto quello che doveva spendere, ciò che non ha speso è stato, diciamo prima, per motivi burocratici di vincolo e di procedure che nel cosiddetto sblocca Italia, prima ancora che avvenisse questa vicenda, abbiamo cercato di liberare. Io ho fatto il sindaco, so che non c'è niente di più frustrate per un sindaco, di ricevere i propri concittadini e dire guarda che non è un problema di soldi, io i soldi ce li avrei, è che mi si è affermato perché l'autorizzazione della conferenza ha avuto bisogno del problema. Questo elemento di semplicità va a recuperare. L'Italia deve tornare a essere un paese semplice, un paese nel quale quando si dice che si fa una cosa si fa, non si mette in piedi un meccanismo per andare a creare il controllo che abbia un'autorizzazione, che sia soggetta al vincolo, che abbia il parere vincolante. Questo meccanismo deve essere un meccanismo da cambiare. La lotta contro il dissesto idrologico è la prima di queste battaglie da fare. La stiamo facendo, abbiamo miliardi in Italia da spendere ancora su questo tema. È chiaro che dobbiamo combattere contro cause storiche complicate. Se avessimo costruito in modo diverso, se avessimo gestito con più velocità certe scelte, è un dato di fatto oggettivo. Però oggi noi abbiamo bisogno di risolvere il problema. Il primo tema che vi dico è che noi sul dissesto idrogeologico in generale in Italia. Lavoreremo sempre di più con i presidenti delle regioni, come stiamo facendo in Puglia, continueremo a farlo. È chiaro che si deve accompagnare una gestione dell'immediato. E allora anche io vorrei ringraziare, oltre a tutte le autorità, le forze dell'ordine, chi è intervenuto nell'immediato e chi nei giorni successivi, vorrei ringraziare la protezione civile. Noi abbiamo benvenuto la protezione civile e stanno cambiando il modo di fare protezione civile. In Puglia, lo ha spiegato bene il presidente Vendola, è cambiato tutto negli ultimi meno di dieci anni. È questo un elemento di forza straordinaria per un paese che vuole essere civile. Vi ricordate quello che accade a New Orleans nel 2005, mi vale di ricordare, in un sistema impure del paese che è più alla vanguardia degli Stati Uniti da me. Quanto la mancanza di un sistema di protezione civile degna di questo nome avesse causato, in una presenza di condizioni eccezionali, naturalmente meteorologiche, quel disastro. Qualmora è accaduto anche da noi. Io sono stato sindaco di una città che ancora sulla sua pelle il dramma, non soltanto dell'alluvione, cheppure accade quando ancora, per esempio, io non ero nemmeno nato, tanti di Fiorettino erano ancora nati, ma della mancanza allora la capacità di un sistema di controllo e di intervento immediato. Oggi le tecnologie ci consentono di fare tutto, ma non ci fanno fare l'unica cosa che realmente serve se non c'è il grande cuore delle volontarie e dei volontari, e cioè la capacità di interagire con gli aspetti tecnologici in modo concreto e diretto. Questo passaggio in avanti è stato fatto, ma per il Gargano non basta, perché sono due elementi di cornice, la lotta contro il dissesto dell'intervento della protezione civile. Qui c'è una duplice emergenza, il turismo. Io non so se il prossimo anno faccio vacanze, spero di sì, se faccio valentieri nel Gargano, però prima di arrivare al prossimo anno io vorrei fare un appello aiutato dalle televisioni nazionali che ci sono, perché le televisioni locali sono sicuramente più brave a farlo già sapere, l'hanno già fatto sapere nel corso delle dirette e nel corso dei servizi di questi giorni. Io sono arrivato, ho fatto un pezzo a piedi e ho salutato un po' di abitanti del Gargano, ho cercato un sacco di comitive, quasi tutte italiane a dire il vero, che non sono cugliesi, ho trovato un gruppo di formigliesi, ho trovato un gruppo di toscani, ho trovato un gruppo di lombardi, il Gargano non è chiuso per il lutto, il Gargano è aperto, è in grado di affermare, in grado di affermare, in grado di affermare, per chi va a scuola, ma il Gargano è nelle condizioni di essere quel capolavoro di bellezza che è e questo credo che sia un elemento da dare con un messaggio molto forte, perché poi di fronte alle emergenze ci sono due modi di reagire, il primo è quello di mettersi a sedere e non rialzarsi di lui, il secondo è quello di essere tosti, fieri, orgogliosi come senz'altro voi sarete, il tema del turismo esiste, lo ribadiamo con grande determinazione e però c'è il tema dell'agricoltura, del lavoro alimentare, quindi dell'agricoltura e basta, voi sapete che non posso dire qual è l'olio che io riferisco migliore in Italia la sera posso fare a casa anche io, e non mi riferisco alla Liguria, ma non prendo neanche questa battuta che ho appena sentito, dicevo lo scavolo prendo dal Cargano, non abbiamo questa discussione, diciamo questo, secondo me a noi piace competere, è compito del governo mettere in condizione questa terra di competere con l'olio straordinario che produce e quindi di intervenire in modo immediato come Galletti e Martina si sono già impegnati a fare, il ministro dell'ambiente, il ministro dell'agricoltura, perché anche gli interventi in ambito agroalimentare siano rapidi e siano capaci direi di dare una risposta concreta che purtroppo non può che essere urgente perché la situazione come tutti noi sappiamo, specie dopo questa stagione che non è stata granché per l'agricoltura, ha piovuto un po' che, prima di governo ladro è arrivato a me, a più, 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 a più. un applauso un quarto punto molto rapido, è evidente che noi abbiamo bisogno di rivolgere un pensiero commosso alle vittime e alle loro famiglie. Io credo che per una popolazione sia fondamentale saper ripartire e ripartire con lo stimolo, la spinta e lo slaggio che sicuramente il governo ci mette, dicendo io sono qui semplicemente non per fare grandi discorsi, ma per dire che sul tema della dichiarazione di emergenza è evidente che noi attendiamo più di settimana la conclusione della procedura, siamo nelle condizioni di fare la nostra parte, faremo la nostra parte come il doveroso, però accanto alle dichiarazioni di emergenza, allo stato di emergenza, alle dichiarazioni burocratiche, a tutti gli aspetti formali che sicuramente saranno seguiti molto bene, c'è un elemento che è l'elemento grave e che è l'elemento di rialzarsi in piedi e ripartire. Tu lo puoi dire soltanto se garantisci che il governo fa la sua parte, sì, sono qui per dirvi che il governo farà la sua parte, ma paradossalmente il governo che fa la sua parte non basta se non c'è una popolazione che è in grado di dire ok, abbiamo superato prove anche più difficili, supereremo anche questa, ma la supereremo partendo da un presupposto, non che siamo genericamente ottimisti, ma che ve lo garantisco essendo arrivato in elicottero, vedendo la vostra terra dall'alto, vedendo la bellezza della vostra terra dall'alto, io credo che voi abbiate assolutamente la forza e le qualità, oltre che le risorse, per poter voltare questa pagina. Noi da parte nostra ci mettiamo una sola cosa, una tenacia, una determinazione senza paragoni perché su tutti i punti oggetto di discussione si possa procedere, poi tutti saremo d'accordo con i comuni, con le autorità, ma quelli che affronteremo li affronteremo in modo chiaro e faremo la nostra parte. Ai cittadini, alla popolazione chiedo di essere semplicemente voi stessi e chiudo, vorrei dire una cosa ai sindaci, mi levo la giacchetta e mi metto quella precedente, io so che fare il sindaco è l'esperienza più difficile e più bella che possa accadere, fare il sindaco è il depositario dei sogni e talvolta anche dei vinti delle persone, in una situazione di emergenza il sindaco diventa qualcosa di più del sindaco, è un consulente gratuito, è un psicologo sociale, è il mazzo di tutte le picchiate come dicevo alle nostre parti per cui è la colpa di tutto, è lo sfogatoio e so che questo è l'elemento anche più difficile perché uno la sera va a letto e dice ma mamma mia, a che ho fatto ci male per sentirmi dire tutto quello che mi ha detto i miei concetti, io vorrei semplicemente che sentiste adesso quello che talvolta ci è capitato in passato di non sentire, e cioè la vicinanza dello Stato, perché quello che voi fate è qualcosa di più di un semplice fatto amministrativo, burocratico, nell'accogliere anche il dolore della vostra cooperazione, nel coordinare il lavoro delle forze dell'ordine in cui va la nostra gratitudine, nell'ascoltare le difficoltà dei cittadini, voi fate una cosa straordinariamente più grande della semplice constatazione collocata, voi fate politica con la P maiuscola e siccome in questo momento fare politica sembra una parolaccia, io vorrei ringraziare tutte le autorità a partire dalla signora Prefetto, la sua eccellenza Prefetto fino a tutte le altre autorità, vorrei dire in particolar modo ai volontari e ai sindaci che non Matteo Renzi, non il Presidente del Consiglio, del Presidente della Repubblica Italiana, vi dice grazie, vi auguro, buon lavoro, per ietnamura, grazie! Un peccato di Campione, che era ovviamente doverosa, dalla luce di questo place perché la presenza ha semplicemente un segretario simbolo di conoscimento, nel primo che non è stato parlo hanno preso dalla finestra di pubblico, quella è stata promettata e poi, questo non passa mai in Italia. Siamo con il viceministro Valle e Docenti, con il sottosegretario Lotti per incontrare i sindaci, i rappresentanti del governo regionale, per incontrare il Presidente di Confindustria, di Amaricommercio e naturalmente i regolatori, i rappresentanti sindacali di Taranto e in particolare dell'IVA. Le novità sono quelle che avete visto in queste ore, visto che si è finalmente sbloccato dal termine dello stipendio e gli stipendi, ma che sta dentro il prestito Ponte, quindi dentro un'operazione che per definizione transitoria. Per noi l'IVA non è questione di Taranto, per noi l'IVA è questione nazionale, è la dimostrazione che in Italia si può fare imprese e investimento produttivo rispettando la salute. E questa è dunque la priorità assoluta, la scommessa dell'IVA è la scommessa di questo governo, ma è la scommessa più in generale di tutti gli italiani, di tutti gli italiani per beni che credono che si possa dare un futuro alla siderologia e più in generale della produzione industriale in Italia. È evidente che la tensione a Taranto nei confronti del governo è stata molto forte nel corso degli anni, non so da quant'è che non venisse un Presidente del Consiglio qua, io però penso e credo che quando vieni alla Fiera del Levante, quando vieni a parlare di futuro dell'Italia, del futuro del Mezzogiorno, della Puglia, un passaggio a Taranto fosse il minimo, il minimo forse doveroso, sarei stato un bigliacco a non essere qua oggi. Ho concordato, grazie alla disponibilità del prefetto e degli interlocutori, che la prossima volta in cui io velo a Taranto sarà entro Natale, entro già la fine dell'anno, per cui torneremo qui a fare il punto della situazione. è evidente che ci sono tante questioni aperte a 360 gradi, da grande richiesta e disponibilità e in qualche modo interesse, che è stato dimostrato fino ad oggi da tanti imprenditori, da alcuni imprenditori è segno evidente che questa partita, è una partita che appartiene al futuro e non solo al passato. Non vi tedio, per evidenti ragioni di tempo, sulle questioni portuali, sulle questioni nazionali, sulle questioni di tempo rossa e in generale delle polemiche adesso collegate, c'è in sottofondo un momento non particolarmente romantico, perché stavo andando in bagno, ma dalla finestra della prefettura ho visto uno scorcio della vostra città e io credo che questa città meriti di essere raccontata per com'è e non soltanto per come è stata diventa nel corso degli ultimi anni dalle tragiche vicende che vogliamo, per esempio, affrontare, che stiamo affrontando e che adesso stiamo risolvendo. È una città che è una città profondamente italiana, la sua bellezza, noi dobbiamo farla diventare una città nella quale si possa respirare in modo diverso, che si possa respirare in futuro, non soltanto avere la situazione di difficoltà che conosciamo. Su Tempa Rossa qualcosa di più in particolare? Mi pare di averle già detto tutto quello che dovevo dirle, sono argomenti che sono, non sono a rispondere intanto a soli, sono argomenti che suscitano un grande impatto nella popolazione sono dibattiti su cui talvolta c'è anche un elemento di tensione slegato dalla reale portata dei problemi, noi affronteremo nel corso degli incontri che già ci sono, il sindaco ha sottolineato l'importanza del tavolo per Taranto, affronteremo tutte le questioni che riguardano i profili di Tarantini di Tempa Rossa. In generale, sul tema dei no e dei sì allo sviluppo, credo che tutti voi non vogliate rovinare il mio intervento alla Fiera di Levante, per cui adesso direi qui, vado lì e parlerò anche di questo. Sì, questo mi spiace molto, adesso mi sono fatto dare un numero di telefono, chiamerò la periata, mi hanno chiesto se poteva la mamma incontrarla, mi ha detto che sta a 45 minuti qui e quindi lei non poteva, mi sapevo che è stata a un certo punto a sua, non l'abbiamo, questo è un incontro singolo, io adesso alzerò il telefono e la chiamerò e sentiamo volentieri quello che lei ha da dirmi tutto, tranne una mancanza di attenzione al tema della salute, è un incontro istituzionale, ma come sapete se uno può fare una centrale in più, la fa, senza conto. Vi ringrazio molto, scusate se siamo un po' di corsa, ma come sapete non è una scusa, c'è un appuntamento alle 15, a Bari, e io spero che arriviamo a Bari. Grazie mille, buon lavoro. Grazie, a tutti.